buongiorno e ben trovati a questo aggiornamento tecnico sulle cripto di giovedì 29 marzo passeremo in ricognizione anche quest'oggi bitcoin ethereum e ripple dal quadro giornaliero sino quelli tra dei a quattro ore poi orario dunque il bitcoin in quadro giornaliero ancora in corso di validità l'indicazione di debolezza operativa in quanto non si è verificata la notazione di intercettazione al rialzo degli 8.270 dollari che secondo il commento anche di ieri avrebbe revisionato al rialzo la lettura operativa del quadro giornaliero per quest'oggi una chiusura sulle quattro ore sopra di area 7.900 8.000 dollari sarebbe l'evento a cui guardare per riorganizzare un'aspettativa di positività dal quadro giornaliero per quanto riguarda il quadro intraday sulle quattro ore uscito rispetto all'indicazione di neutralità ieri commentata uscito dal lato della debolezza quindi riaperta l'indicazione operativa di debolezza a 7.725 dollari attualmente ancora in corso in valutazione adesso quale capacità di reazione da questa fascia tra i 7.240 e i 7.475 dollari che già lunedì 18 marzo nel pomeriggio era stata di riavvio di una progressione rialzista dunque una configurazione eventualmente utile attualmente ancora non disponibile da monitorare a partire dalla chiusura della presente candela sulle quattro ore per quanto riguarda il quadro orario ieri l'intercettazione in debolezza di 8.135 dollari ha ristabilito l'indicazione operativa oraria di debolezza attualmente ancora in corso per l'ora presente in corso di svolgimento una chiusura oraria di sopra di area 7.520 dollari sarebbe il primo indizio operativo su cui riorganizzare una eventuale positività oraria altrimenti sarebbe solo il supermetto di area 7.600 dollari a costituire il primo indizio per una stabilizzazione del quadro orario all'insegna della neutralità passiamo ad Ethereum nel quadro giornaliero rispetto all'indicazione di debolezza che ancora persiste una seduta interlocutoria quella di ieri che tuttavia non ha cambiato la nostra lettura operativa interessante verificare a questo punto proprio perché siamo arrivati di nuovo in un'area di conferma o meno delle ulteriori attenzioni in questo caso di debolezza di Ethereum in quadro giornaliero un minimo di quest'oggi al di sopra di 385 dollari inizierebbe già da stanotte quindi una seduta di domani a aprire all'osservazione per un'eventuale configurazione di ritorno di positività ma in assenza di questo evento evidentemente rimane la via operativa del quadro giornaliero all'insegna di una debolezza per quanto riguarda il quadro intraday sulle 4 ore di Ethereum segnale ancora debole in continuità con la rilevazione fatta ieri occorre una configurazione idonea per cambiare l'ipotesi di debolezza configurazione attualmente ancora non disponibile infine una notazione nel quadro orario segnale di debolezza operativa ancora in corso solo stabilizzata in stamane ma attualmente di nuovo in in vantaggio la pressione rivassista per cui non vi sono ancora elementi e configurazioni utili su cui poter organizzare un'uscita dalla lettura operativa oraria di debolezza infine Ripple nei confronti del dollaro americano nel quadro giornaliero segnale debole ancora in corso ma qui c'è stato il completamento stamane di un target rivassista posto in area 0,5375 questa fase la revisione a rialzo si avrebbe solo sopra 0,6025 o con una chiusura di oggi sopra 0,5710 sarebbe diciamo l'evento su cui aprire ad un monitoraggio per un eventuale ritorno di positività attesa in assenza di uno di questi due eventi la lettura operativa rimane all'interno di una indicazione di debolezza operativa nel quadro intraday sulle 4 ore un segnale, una via operativa tornata debole dal 0,5570 intercettato a ribasso nella seduta di ieri stop per revisione a rialzo nella via operativa in questa fase solo sopra 0,5775 infine una notazione nel quadro orario di Ripple segnale di debolezza ancora in corso un leggero rallentamento della progressione rivassista nelle ore appena trascorse ma non sono presenti configurazioni utili per elaborare un ritorno di positività attesa prima di congedarci vi lascio prendere visione del disclaimer che richiama ad un uso consapevole sotto la propria ed esclusiva responsabilità delle notazioni tecniche che abbiamo appena commentato questo è tutto per oggi una buona giornata da Giacomo Moglieri grazie a tutti